Profumo di Prato Verde senza per chi pratica il calcio. Bentornato calcio giocato, tornerà domani anche a livello dilettantistico e per 5 realtà pugliesi. Si gioca il turno preliminare di Coppa Italia di Serie B, chi passa accede al primo turno dove ci sono già altre 6 pugliesi qualificate. Due i derby in programma, appuntamento serale per Andrea e Gravina di fronte al Dei Ulivi a partire dalle ore 20. Esordio ufficiale nella nuova stagione per la Fidelis dunque a distanza di 4 mesi dalla sconfitta di Latina e dal conseguente abbandono del palcoscenico professionistico. C'è un nuovo presidente Giuseppe Di Benedetto, c'è un nuovo allenatore Francesco Farina, c'è un organico che deve lottare per vincere il campionato e tornare in C. Prima la Coppa Italia però, i biancazzurri incroceranno il proprio cammino con il gravina abitué della categoria che presenta la conferma di Raimondo Caterano in panchina e ha affidato le chiavi del mercato a Fabio Moscelli, ex della partita. È un derby che promette sicuramente spettacolo e tanti spunti interessanti. Stesso discorso che vale per la sfida del Capozza con fischio d'inizio previsto alle ore 17. Casarano contro Gallipoli, derby tra due delle tre squadre salentine iscritte al prossimo Gironi H di Serie D. I rossazzurri hanno scelto un vincente come Giuseppe, la terza per la guida tecnica e rivoluzionato l'organico. La volontà di puntare ai vertici non manca però di certo. Il Gallipoli, guidato dal confermatissimo Alessandro Carrozza, è una matricola della categoria e può puntare su una rossa collaudata nella passata esaltante stagione in eccellenza. Gradito il ritorno in Serie D anche per il Manfredonia. Perfezionato il ritorno di Franco 5 in panchina, i sipontini si apprestano ad affrontare la nuova stagione con un organico totalmente diverso da quello che ha vinto il principale campionato dilettantistico pugliese. La prima in Coppa Italia e in Campania, fischio d'inizio alle ore 16 per l'incontro con il Portici. Si tornerà in campo poi già domenica a 3 settembre per gli incontri del primo turno. Già fissati gli abbinamenti tra Barletta e Bitonto e fra Fasano e Timo Altamura. Il Martina invece aspetta la vincente di Andrea Gravina. Il Nardò affronta una tra Casarano e Gallipoli. Sette giorni dopo invece scatta finalmente il campionato di Serie D.